Pochi eletti possono vedere qualche cosa anche senza una folla. Lo dico perché la manica lunga è molto diversa da come abitualmente la vedete come lungo manica, ed edificio più di 100 metri di lunghezza e meno di 7 metri di larghezza, che era stato edificato come museo, cioè come galleria, come pinacoglietta, quindi poi ristrutturata a secoli dopo, una delle sedi principali del nostro museo, di conseguenza è il più antico white cube del mondo, costruito per l'arte e oggi bianco. E non lo vedrete oggi bianco, quindi come avete visto alla curazione Merz, abbiamo anche in questa obcezione...